Le tartarughe marine l'edificano ancora sulle spiagge del Cilento. La tartaruga caretta caretta è la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo e nonostante sia fortemente minacciata in tutto il bacino Mediterraneo e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane, continua a deporre le uova. Nella giornata di ieri, località a Palinuro, una caretta caretta n'edificato sulla spiaggia del Lido il Mascalzone. Nella stessa giornata in località a Casa del Conte, a Monte Corice, sulla spiaggia libera e nel comune di Ascea, i volontari di tartarughe marine ed in campania hanno rilevato altri due nidi. Questa mattina invece nel comune di San Mauro Cilento, a Mezzatorre, località costiera, i volontari dell'EMPA hanno messo in sicurezza un altro nido. Queste zone verranno protette da recinzioni e controllate dalla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli e dall'EMPA. Inoltre si raccomandano cittadini e turisti che nel caso di avvistamenti di tali specie o di impronte di segnalarlo immediatamente. La caretta caretta è la più piccola tra le tartarughe del Mediterraneo, può raggiungere 110 centimetri di lunghezza, di carapace e un peso di 180 chilogrammi. La deposizione avviene in regola in ore notturne tra maggio e agosto con tre o quattro nidi deposte in una buca scavata nella sabbia e lì lasciate dalla femmina dopo essere state accuratamente ricoperte. Il calore della sabbia consente l'incubazione delle uova, la temperatura della sabbia determina altresì il sesso delle piccole tartarughe. Nel corso del loro sviluppo embrionale, al di sopra di un valore soia di circa 29 gradi, nasceranno femmine, al di sotto maschi. Una volta schiuse le uova, le piccole tartarughe si avviano nelle acque in ore notturne per evitare predatori.